Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti in questo video dedicato ai sorteggi delle tre competizioni europee che vedranno protagoniste sei squadre italiane ai quarti di finale delle rispettive competizioni. In questo video vi vado a elencare gli accoppiamenti che ormai sono cultura generale, li sapranno tutti. Ma vi vado a dare un mio pensiero, dei miei pronostici sugli accoppiamenti, sulle possibilità di passaggio del turno di ciascuna squadra, le favorite del torneo e poi anche una considerazione generale sul calcio italiano. E cominciamo appunto da questa, dalla considerazione del calcio italiano che sta venendo un pochino rivalutato, avendo appunto tre squadre ai quarti di Champions, è la nazione più rappresentata, due ai quarti di Europa League e una ai quarti di Conference. Se potevano essere due se la Lazio avesse vinto il suo ottavo di finale contro la Zeta Alkmaar, così non è stato, quindi c'è rimasta soltanto la Fiorentina d'Italiana in Conference. E quindi diciamo che l'opinione comune che la Serie A è un campionataccio sta venendo un pochino ridimensionata. Come sempre bisogna, secondo me, avere equilibrio nelle valutazioni. Io penso che il campionato italiano non sia mai stato così scarso come tanti dicevano. Cioè questa superiorità della Liga, della Bundesliga o anche della Premier League, secondo me, non c'è. Nel senso che siamo d'accordo che il Bayern Monaco magari sia più forte di qualsiasi squadra del campionato italiano. Però non è che la terza del campionato tedesco è più forte della terza del campionato italiano. Non è che la quattordicesima del campionato spagnolo sia più forte della quattordicesima del campionato italiano. Cioè, magari alcune nazioni vantano qualche top team che in Italia effettivamente manca. Il top team da quando, diciamo, è crollato il ciclo Juve, il ciclo quello della BBC in difesa, diciamo, in Italia non c'è più stato un top team. Gli anni d'oro, diciamo, del nostro campionato dove i migliori giocatori del mondo venivano in Italia e c'erano un Milan, un Inter, una Juve fenomenale. Ma io parlo degli anni ancora prima con il Parma, la Sampdoria, la Lazio, la Roma, che erano squadre veramente, ma veramente, la Fiorentina, squadre che erano veramente forti. Ecco, quegli anni non ci sono più. Diciamo che il campionato è ricco e potente, adesso è diventato quello inglese, però è ricco ma non è competente. Uso un francesismo, sputtana soldi, non è che li investe. E quindi questa supervalutazione delle squadre inglesi e questa sottovalutazione estrema del campionato italiano, secondo me, è ingiusta. Così come adesso non è corretto, secondo me, considerare il campionato italiano completamente rivitalizzato solo perché abbiamo sei squadre nei quarti di finale delle rispettive competizioni. Anche qualora clamorosamente vincesse un italiano a ogni competizione, cioè in Napoli vince la Champions, la Roma vince l'Europa League, la Fiorentina vince la Conference, non è che il campionato italiano diventa il migliore d'Europa per questo, cioè nel senso la superiorità di una realtà calcistica, che sia una squadra, un club o che sia un campionato, lo vedi con la continuità nel tempo, non con l'annata o l'episodio, ma lo vedi con il percorso che eventualmente fanno determinate realtà calcistiche. Quindi secondo me l'Italia è un campionato che è nei top 5, assolutamente, a cui manca da tempo un top team, è un campionato molto povero a livello economico rispetto ad altri, ma che assolutamente non è lo schifo che viene descritto da tanti. C'è stato ovviamente un calo generale rispetto a 15-20 anni fa, però non siamo andati nell'abisso, ecco, questo è un po' il concetto. Chiusa parentesi su questa discussione, veniamo alle tre competizioni, cominciamo dalla Champions League e cominciamo con gli accoppiamenti. Allora, secondo me le tre italiane in Champions sono state molto fortunate, tutte e tre, perché sono capitate nella stessa parte di tabellone, e quindi questo, non dico garantisce un'italiana in finale, sicuramente ne garantisce una in semifinale, però dà ampie possibilità di rivedere un'italiana in finale, e soprattutto nella parte di tabellone delle tre italiane non ci sono le tre big, che erano Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco, per cui diciamo che per arrivare alla finale non affronti nessuna big. Questo è un po' il concetto. Qualsiasi delle tre italiane dovesse arrivare in finale, non stando che ci può arrivare anche il Benfica, però ti è stata data l'opportunità di arrivare in finale di Champions senza affrontare nessuna big, perché si scanneranno tra di loro dall'altra parte del tabellone, e questo sicuramente è un sorteggio fortunato, e dispiace, secondo me, a me non piace vedere il derby italiano ai quarti, ma perché soprattutto dispiace per il Napoli, più che per il Milan, perché il Napoli è al suo primo quarto di finale di Champions della storia, è un evento storico, è una prima volta, e il fascino di una competizione come la Champions, secondo me, si esalta quando affronti un Real Madrid o un Bayern Monaco, che magari il Napoli ha sicuramente più possibilità di passare il turno con il Milan, piuttosto che contro il Real Madrid, questo è chiaro, però il fascino di giocare un quarto di finale contro il Real Madrid non è quello di giocare contro una squadra che affronti altre due volte nello stesso mese per la partita di campionato, scusa, un'altra volta nello stesso mese per la partita di campionato, cioè non dà l'idea di Champions, ecco, questo è un po' il concetto, quindi mi dispiace per questo, è ovvio che però, come dicevo prima, ti garantisce un italiano in semifinale, questo non è male, assolutamente. Chi vedo favorita tra Napoli e Milan vedo favorito il Napoli, perché? Perché il discorso che ha anche detto Spalletti, il Milan ha il DNA, è la Champions sicuramente, sì, la storia del Milan è estremamente più gloriosa rispetto a quella del Napoli, è una delle più gloriose d'Europa, però in campo non ci va la storia, in campo ci vanno i giocatori e il Milan non può schierare Baresi, non può schierare Maldini, non può schierare Raikardt, non può schierare Van Basten, non può schierare Shevchenko, non può schierare Seedorf, il Milan schiera Tomori, Kalulu, Maignan, Teo Hernandez, Tonali, Cellmakers e compagnia cantante, e sono quasi tutti al loro primo quarto di finale di Champions, per cui il livello di esperienza del Milan è molto simile al livello di esperienza del Napoli, anche in panchina, dove, secondo me, anzi non secondo me, dove Spalletti ha anche più esperienza di Pioli, per cui il Napoli in tutto il campionato, ogni settimana dimostra di essere più forte del Milan, non vedo perché non dovrebbe partire favorito nel quarto di finale, vedo favorito il Napoli, se devo dare delle percentuali, direi un 65% a Napoli, 35% Milan. L'altro quarto di finale, anche l'accoppiamento dell'Inter non è pessimo, perché, diciamo, tolte le italiane, le due più scarse erano Benfica e Chelsea, forse il Chelsea è anche peggio del Benfica, nel senso più scarso del Benfica, però, arrivati a questo punto della competizione, su una partita è facile, non lo è stato nemmeno l'ottavo di finale contro il Porto, che ha fatto capire quanto le portoghesi, quelle di alto livello, perché ad esempio il Braga che ha affrontato la Fiorentina, non è stato assolutamente un ostacolo, però le portoghesi forti sono squadre molto toste. L'Inter ha avuto già la prova all'ottavo contro il Porto, dove ha sudato la qualificazione, dovrà sudare anche contro il Benfica. Secondo me è una partita da 50-50, che potrà essere decisa dagli episodi, in positivo e negativo delle due squadre, però diciamo che mi sorprenderebbe vedere il Benfica in finale, cioè vedere due italiane eliminate dal Benfica nel doppio scontro, secondo me è fantascienza. Quindi secondo me un'italiana in finale ci arriva. La favorita ovviamente è il Napoli, però, perché uno dice ma non ha esperienza, sì, ma sono anche molto, non avevo un'esperienza nemmeno in campionato, perché non hanno il DNA vincente in Italia, eppure hanno questa sfacciataggine qualitativa che gli ha permesso di stradominare il campionato rispetto alle altre compagini che con più esperienza, con più DNA vincente, dove le volete, ma non fanno tre vittorie finale e me la pagalle. Quindi il Napoli, secondo me, in quella parte di Tabilone è la favorita per arrivare in finale. Però per me è quasi sicuro che un'italiana arrivi in finale. Mi sorprenderebbe di vedere, il Benfica può eliminare l'Inter, ma non ci credo che poi elimini un'altra italiana. Secondo me è impossibile. Per cui un'italiana in finale la vedo quasi sicuro. Dall'altra parte si scanneranno, il Chelsea lo vedo un pochino, la scenerentola di quella parte di Tabilone è molto inferiore alle altre tre. Io come favorita alla Champions vedo il Real Madrid, perché non si può non considerare il Real Madrid favorito quando si parla di Champions League di questi anni, però Bayern, Monaco e Manchester City sono molto, molto, molto competitive. Non mi sorprenderebbe vincesse una di queste due. Non mi sorprenderebbe vincesse una che non è tra queste tre. Diciamo che se arriva in finale un'italiana, secondo me la favorita è il Napoli, e si ritrova in finale una tra Real Madrid, Bayern, Monaco e Manchester City, parte strafavorita quella delle tre che arriva in finale, però il Napoli nello scontro diretto, secco, finale secca, campo neutro, se la può anche giocare, perché è una partita che il pallone è rotondo e può succedere di tutto. Per me però la favorita alla vittoria finale è il Real Madrid. Andiamo a parlare dell'Europa League, dove la Roma è stata molto fortunata, perché è capitata nella parte di tabellone scarsa, tra virgolette, la partita contro il Feyenoord non è da sottovalutare assolutamente, non è il Feyenoord della finale di Conference dell'anno scorso, però è una squadra assolutamente alla portata della Roma, che per me è la favorita alla vittoria finale della competizione. Secondo me è la squadra più solida, è la squadra che impanchina un allenatore per quanto personalmente insopportabile a livello caratteriale, a livello mediatico, però è un allenatore che in questo genere di competizioni quelle europee dà il meglio di sé e quindi si è visto anche l'anno scorso in Conference che per quanto sia una Coppa di terza fascia partecipano in 70 e una arriva in fondo e c'è arrivata la Roma e Mourinho, quindi per me la Roma sia per qualità della rosa che per esperienza in campo e in panchina è la favorita alla vittoria finale, anche perché ha una parte di tabellone dove in partite impegnative non ne ha tranne eventualmente la finale, per cui secondo me la Roma è cascata abbastanza bene. Col Feyenoord la vedo favorita, nel doppio scontro è sicuramente più favorita che in uno scontro secco perché nella partita secca ha più margini la squadra sfavorita di quella favorita, più minuti giochi, più partite giochi e più vengono fuori i gap tra le due rose, quindi la Roma contro il Feyenoord è parte assolutamente favorita, ma l'aspetto ambientale e psicologico può creare qualche qualche grattacapo la squadra di Mourinho, però anche in questo caso se devo fare una percentuale direi 70% Roma 30% Feyenoord. In semifinale eventualmente la Roma troverebbe la vincente tra Bayer Leverkusen e San Giloua che è palesemente la bella storia della UEFA di quest'anno, una squadra che nessuno si è filato, partita dall'inizio, dai primi turni, che ha fatto un grande girone, che ha buttato fuori l'Union Berlino, è una squadra che sta facendo un bellissimo percorso, è una squadra che non ha assolutamente niente da perdere, è frizzante, che potrebbe anche buttare fuori i Bayer Leverkusen, perché no? E quindi è una bella storia con la San Giloua, ma ovviamente la Roma in semifinale che trovi i Bayer Leverkusen o che trovi il San Giloua parte assolutamente favorita come ai quarti contro il Feyenoord. Quindi diciamo che la Roma ha la strada in discesa verso la finale. Dall'altra parte la Juventus è stata molto sfortunata, diciamo delle italiane è stata l'unica sfortunata nel sorteggio perché lo Sporting Lisbona dopo la Roma secondo me era la squadra peggiore da trovare. Però se la Roma era un derby italiano e quindi qualche equilibrio si può anche diciamo ribaltare diciamo delle europee rimasti in gara la Juve ha pescato secondo me la peggiore perché sebbene Manchester United e Sevilla abbiano i nomi grossi Manchester ha una storia tipo il Milan no? Gloriosa il Sevilla in Europa League è un dogma ne ha vinte tre di fila sono due squadre il Sevilla è completamente decaduto no? è una nobile proprio iper decaduta il Manchester non è più quella squadra dallo strapotere che poteva essere qualche anno fa quindi sono due nomi importanti ma in campo secondo me non sono insidiosi quanto potrà essere lo Sporting che già contro l'Arsenal ha dimostrato di essere una squadra che ha delle soluzioni balistiche tecniche interessanti perché le squadre portoghesi Benfica Porto Sporting Lisbona tirano fuori dei giovani molto interessanti sono delle cantere di alto livello quindi ti mettono in campo la grinta delle squadre portoghesi che accomuna tutto il campionato portoghese ma poi ti mettono in campo anche le due o tre stelline che tecnicamente ti possono risolvere la partita quindi secondo me la Juventus dovrà sudare molto per arrivare alla finale rispetto alla Roma che ha un percorso molto più agevole però io vedo più difficile il quarto di finale contro lo Sporting che l'eventuale semifinale contro il Manchester United perché Siviglia non penso possa impensierire il Manchester però per me è più difficile il doppio scontro con lo Sporting che il doppio scontro col Manchester questo è il mio pensiero quindi la Juve la vedo vi dirò la vedo leggermente sfavorita rispetto allo Sporting anche per questioni proprio di come si può dire umorali ecco delle due squadre lo Sporting è in pieno entusiasmo non ha nulla da perdere giocherà con la mente libera la Juventus invece in questa competizione è chiamata ad arrivare in fondo ed è la competizione che può dare un senso alla stagione quindi le pressioni psicologiche possono fare la differenza vedo leggermente favorito lo Sporting se devo dare una percentuale 55% Sporting 45% Juventus nell'eventuale semifinale tra Juventus e Manchester direi un 50-50 come dicevo prima vedo la Roma favorita per la vittoria finale della competizione però la finale che sia contro la Juve che sia contro lo Sporting o che sia contro il Manchester United sarà veramente tosta per la Roma anche perché replicare la vittoria dell'anno scorso anche se in un'altra competizione diciamo fare l'upgrade dalla conferenza all'Europa League e vincerla sarebbe veramente veramente tanta roba e conquistarsi l'accesso in Champions così è anche molto prestigioso andiamo all'ultima competizione la conference dove la Fiorentina è stata anche in questo caso molto fortunata un po' stile Roma cioè è capitata nella parte di tabellone facile come tutte le italiane tranne la Juventus alla fine ha pescato sicuramente la squadra più debole delle altre sette rimaste in gara l'Ek Poznan è sicuramente la squadra più abbordabile di quelle rimaste in gara non credo la Fiorentina faticherà insomma a liquidare questa impegnativa diciamo che nel percorso della Fiorentina la squadra più difficile affrontata è stata quella ai preliminari il tuente l'Ek Poznan non è non penso sia un ostacolo per la squadra d'italiano nel doppio scontro soprattutto quindi vedo se devo fare delle percentuali vedo la Fiorentina al 75-80% e l'Ek Poznan al 20-25% questo diciamo è il mio pensiero nell'altro quarto di finale che decreterà quella che eventualmente sarà l'avversario della Fiorentina in semifinale si affrontano Basilea e Nizza allora il Basilea non è più quel Basilea bellissimo nostalgico che arrivava spesso nelle fasi finali della Coppa UEFA non è quel Basilea lì diciamo i veterani di quel Basilea sono arrivati alla fine del loro percorso e è una squadra come sempre che va battuta non è che partecipa per partecipare un po' come l'Underlecht dall'altra parte però il Nizza lo vedo leggermente avanti benché non si stia parlando assolutamente di una squadra di un carro armato ecco vedo leggermente favorito il Nizza quindi l'eventuale semifinale prospettica che immagino è Fiorentina Nizza e vedo favorita la Fiorentina anche in questo caso non in maniera netta come nel quarto contro il Lech Poznan però vedo una Fiorentina più avanti perché ha trovato un'identità di gioco più fluida dei giocatori di qualità superiore rispetto al Nizza e quindi vedo la Fiorentina favorita per arrivare in finale da quella parte del tabellone dall'altra parte del tabellone c'è un po' di bagarre perché c'è la sorpresa Ghent che si è sbarazzata in casa sua con una prestazione sontuosa che affronterà un West Ham che gode di tanta considerazione perché è una inglese ma che deve preoccuparsi tanto del campionato perché sta rischiando e quindi non è che in conferenza abbia dimostrato di essere una fuori quota ecco sebbene abbia un giocatore che io apprezzo tantissimo che secondo me è uno dei top 10 nel suo ruolo cioè Bowen vedo ovviamente il West Ham è favorito ma non in maniera netta come magari tanti bookmakers pensano quindi potrebbe scapparci anche la sorpresa ecco in questo quarto nell'altro quarto si affrontano Anderlecht e Azeta che sono le due diciamo che hanno eliminato le favorite secondo me le favorite per vincere la competizione agli ottavi di finale erano Lazio e Villareal secondo me e sono state eliminate appunto da Anderlecht e Azeta Alkman che si affrontano in questo quarto di finale che nessuno si sarebbe immaginato secondo me vedo favorito la Zeta perché è una squadra solida perché è una squadra che ha delle individualità importanti si sono viste contro la Lazio ha quattro giocatori secondo me che che sono di grande spessore su tutti il difensore Ciazzi Diakos il centrocampista che è stato l'erede di Kup Miners che contro la Lazio non ha giocato perché è stato infortunato sia all'andata che al ritorno ma che rientrerà per le fasi finale della competizione che è De Witt e poi ci sono Carson nell'esterno attacco che invece ha fatto ammattire la Lazio con due assist all'andata e gol al ritorno e Pavlidis che non è un centravanti fenomenale ma è un centravanti nella sua annata miracolata diciamo fa gol a ogni pallone che tocca e quindi in questa stagione è un attaccante top quindi vedo la Zeta favorito sull'Anderlecht nell'eventuale semifinale con il West Ham o con il Ghent vedo la Zeta favorito e nell'eventuale finale Fiorentina Zeta Altmar vedo la Zeta favorito per me delle otto rimaste la Zeta è la squadra più forte però la Fiorentina qualora dovesse arrivare in finale e giocarsela con la Zeta si fa la sua finale e si gioca le sue carte assolutamente non parte sconfitta queste sono quindi le mie considerazioni quindi favorita per la Champions è Real Madrid come finalista vedo il Napoli che è un outsider che però dovrà fare il miracolo eventualmente per portare a casa la Coppa in Europa League come favorita vedo la Roma e la finalista dall'altra parte beh forse il Manchester United però la Juve ha assolutamente le sue chance di arrivare in fondo in Conference la favorita per me è la Zeta Alkmar l'altra finalista dovrebbe essere potrebbe essere la Fiorentina queste sono le mie considerazioni insomma sulle tre competizioni sui sorteggi sul campionato italiano che si è rivalutato in questa stagione con le competizioni europee sulle possibilità di passaggio del turno e di vittoria delle italiane vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate se siete d'accordo se non siete d'accordo volete dire la vostra qualsiasi cosa scrivete nei commenti leggo e rispondo sempre a tutti e iscrivetevi assolutamente al canale se non lo siete già per supportarmi e soprattutto chiedetemi dei video perché con questo weekend ci avviciniamo alla sosta per le nazionali per due settimane non ci saranno partite di Serie A e quindi ho due settimane in cui fare video su richiesta quindi mi potete stimolare a degli spunti di riflessione interessanti delle vostre squadre di qualsiasi cosa vi possa interessare riguardante ovviamente il calcio potete scrivermi anche in privato se non volete scrivermi nei commenti pubblici o su Instagram o su Telegram vi lascio in descrizione al video i link per trovare il mio profilo di entrambi i social noi ci vediamo ai prossimi video dedicati alle partite di questo weekend di Serie A ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti